Il trono classico di Uomini e Donne 2018 sta facendo fortemente discutere il suo pubblico. Motivo delle varie chiacchiere sul web, sono i tronisti attualmente seduti sulla sedia rossa che tra segnalazioni e discussioni, con i propri corteggiatori e con le proprie corteggiatrici, stanno animando quest'ultima edizione della trasmissione. Protagonista di questo articolo è la giovanissima Cancelletto Virginia Stebloom, aspirante fidanzata di Cancelletto Nicolò Brigante, in competizione con la corteggiatrice Marta Pasqualato per contendersi il cuore del tronista siciliano. Mentre tutto tace circa la scelta di Nicolò, ecco che dai social proviene un indizio molto rilevante, di cosa si tratta. Scopriamone di più. Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante, un inaspettato like su Instagram. Da varie settimane ormai si vocifera e si attende la registrazione della scelta di Nicolò Brigante. Il tronista, infatti, dichiarò di essere ormai vicino alla sua scelta ma dal giorno in cui il ragazzo fece la stessa dichiarazione, trascorse vario tempo. Dunque, oggi, moltissimi si domandano quando Brigante sarà realmente pronto a tornare a casa felicemente accompagnato dalla propria futura fidanzata. Ma soprattutto ciò che preme il pubblico è chi tra Virginia e Marta diventerà, presto, la nuova compagna del tronista. Gran parte dei telespettatori tifano per la Stebloom la quale è riuscita, con la propria spontaneità, a conquistare il cuore di un gran numero di persone. In queste ultime ore, però, sui social accade qualcosa di strano, video, che scatena non pochi dubbi, di cosa si tratta. Virginia, recentemente, ha pubblicato sul proprio account Instagram un suo scatto. Ad insospettire il pubblico è uno strano like comparso tra i vari, mi piace, della foto? Parliamo del, like, rilasciato da Beppe. Come molti di voi già sapranno, Beppe, è l'ex fidanzato di Marta Pasqualato, corteggiatrice di Nicolò e rivale di Virginia. Dunque, non ci resta che rispondere ad un grande dubbio? Per quale motivo il ragazzo ha rilasciato la sua reazione alla Stebloom? In tale circostanza il ragazzo sembra chiaramente schierato contro la sua ex compagna, Marta, è pubblicamente a favore di Virginia. Che, non si tratti di un'azione provocatoria? O è, in realtà, un importante indizio rivellatore circa la scelta di Nicolò? I dubbi sono vari ma al momento non è possibile annunciare, con certezza, una spiegazione, voi cosa ne pensare in merito? Cancelletto trono classico uomini e donne. Cancelletto trono classico uomini. Grazie a tutti.